La conferenza dei servizi, prevista per il 28 dicembre, rappresenta un passo fondamentale verso l'approvazione del progetto di ricostruzione della Collegiata della Santissima Annunziata a San Ginesio. Lo storico edificio, non solo un luogo di culto ma anche simbolo del patrimonio culturale e artistico della Regione, si avvia a ricevere un intervento di restauro e consolidamento sismico dopo i danni subiti nel 2016. I lavori di ricostruzione ammontano a 7,38 milioni di euro e mirano a ripristinare la struttura danneggiata dal terremoto. Gli interventi previsti includono il consolidamento delle strutture murarie, il restauro delle opere d'arte, la riparazione dei danni strutturali e il miglioramento delle infrastrutture. Questo intervento non è solo un atto di recupero e di preservazione del nostro patrimonio ma rappresenta anche un simbolo di speranza e rinascita per San Ginesio e la sua comunità. Queste le parole del commissario alla riparazione e la ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, che aggiunge Il nostro fine non è soltanto ricostruire materialmente i nostri borghi dell'Appennino centrale ma al contempo ricostituire il tessuto delle comunità che li animano. In questa prospettiva le chiese rappresentano dei presidi insostituibili perché in questi luoghi le persone si ritrovano insieme e vivono l'esperienza della condivisione religiosa. Si tratta di una visione condivisa anche con il presidente Francesco Acquaroli e con le altre istituzioni, che ringrazio per la disponibilità e lo spirito di collaborazione che dimostrano costantemente la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso e parte integrante non solo della ricostruzione ma anche della riparazione dei nostri territori. Il percorso di recupero va oltre l'aspetto tecnico e ha una valenza anche sociale e economica. Grazie a questo intervento di ricostruzione, Sanginesio tornerà a riappropriarsi di un luogo di indiscutibile valore che contribuisce a testimoniare con il cambio di passo impresso nella ricostruzione prosegua giorno dopo giorno per il bene delle nostre comunità.